È racchiusa in questo manifesto la rabbia dei familiari e degli amici di Emanuele Fadani, il giovane papà morto a soli 36 anni per il pestaggio di tre giovanissimi rom. Ieri la notizia che uno dei suoi aggressori, Sante Spinelli, di 23 anni, è stato trasferito ai domiciliari per volere del jeep Marina Tommolini, ha sconvolto la comunità albense e nella fattispecie gli amici di Emanuele, che si sono riversati in strada per far sentire la loro voce. Una decina di persone si è incatenata a lungo via Roma nei pressi del bar frequentato da Emanuele per testimoniare il proprio malcontento. Ma si è trattato di una manifestazione isolata e durata pochi attimi perché tutto è stato rimandato a domenica prossima, quando amici e parenti si saranno meglio organizzati. Per ora hanno usato questo quadro per testimoniare il loro dissenso per la scelta compiuta dalla magistratura. Va comunque tenuto da conto che la decisione del jeep Tommolini, che ha ritenuto la posizione di Spinelli marginale rispetto a quella degli altri due aggressori, cioè i cugini Elvis e Danilo Levakovic, non assolve il terzo rom dall'accusa di concorso in omicidio. Le immagini delle videocamere di sorveglianza poste all'esterno della banca di Viale Mazzini, laddove Emanuele venne ucciso, hanno ripreso gli attimi di quella brutale aggressione. E pare che ad uccidere Emanuele, come appunto ripreso dalle immagini, sia stato un unico pugno, sferrato dallo stesso Elvis che poi si era dato anche alla fuga, rinnendosi latitante per tre giorni prima di finire in manette. Ma dopo la scarcerazione di Spinelli, parole dure arrivano dal fratello di Emanuele, Fabrizio, che dice «Hanno rimesso in libertà uno degli assassini. Questo mi fa vergognare di essere italiano». E la mamma Anita spera che il processo non si riduca ad una farsa. Ho ancora fiducia, chiude la donna, nella magistratura e nella giustizia.